Finalmente si torna a fare sul serio! Gioco a Fortnite dal 2017 L'ho abbandonato per un po' di anni ma il mio account effettivamente esiste da tantissimo 2017 e 2023 sono 6 anni Quindi oggi voglio assolutamente fare una vittoria reale perché mi manca troppo La mia vittoria reale dopo 6 anni di account Speriamo di riuscirci Vedo già un nemico Ci sono tipo tantissimi nemici perché mi sono buttato per primo ma vediamo quello che riusciamo a fare Ecco un nemico Top! E se non ci credete che io gioco da così tanto tempo a Fortnite e sono rimasto così scarso Beh questa è una delle mie prime kill su questo gioco Eccolo E andiamo E andiamo Mattiz Vai così Eh già mi scende quasi una lacrimuccia solamente a ripensarci Ora però siamo qui per un unico motivo e quel motivo è vincere Ah è un nemico È un nemico Preso Non ci arriva quest'arma dai che lo killo Sta scappando via Lo dobbiamo acchiappare Eccolo Ma che cosa sta facendo? Ma non può essere questa la mia prima uccisione di oggi Vabbè Ma questo è un altro nemico Oh questo è un bot che si chiama Chicken Farmer Guarda che fucile a poppa che ha Bello Oggi vado aggressivo ci dovrebbero essere altri nemici qui Mi sento Mi sento Colpito 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 Mamma mia Mamma mia Tutti all'attacco Oggi non si scherza Oggi non si scherza Dov'è? Dove sta? L'ho visto L'ho visto Ah Guarda che si stanno mirando Guarda che si stanno Oh questo non è un bot Colo Ehi Aspetta che c'è un altro nemico qui Aspetta che mi prendo la mitraglietta Nemico qui Ok Ok E Boom Boom Uh sono a 4 kill Mamma mia Mi era mancato Uh il gioco mi vuole far vincere Ho trovato anche uno scudo Mamma mia Curiamoci E andiamo a vincere questa partita Come ai vecchi tempi Lasciate un mi piace Iscrivetevi al canale di Mattiz Perché sto per fare La mia prima vittoria Dopo 6 anni di account Per chi se lo stesse chiedendo Sì Il codice creatore Mattiz Esiste ancora Non è scolparso nel nulla Ma io adesso sto cercando Di capire una cosa Ma cos'è Cos'è quella luna Ma cos'è sto posto Oh ci sono nemici C'è un nemico che nuota Ok Vieni verso di me Vieni verso di me Piccolo bambino Che ti faccio fare No sta andando via Ma guardate che mi tocca Inseguirlo adesso Mi tocca inseguirlo a nuoto Niente parte la missione subacquea Via Vum Vum Via così Un bel tuffetto in acqua Col mio teschio gigante Mi sa che stanno fightando Mi sa che stanno lì Sì 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 È entrato in quella caverna Eccolo Ok Mi avvicino Mi avvicino Mi avvicino Mi avvicino Mi avvicino Mi avvicino In silenzio Ok Oddio Oh Ok ok Questo è andato Questo è andato Ma ho sentito altri nemici In realtà Non sono riuscito a costruire Per fortuna Era un nabbo pure questo Sto trovando tutti i nabbi Ma è ovvio Non gioco da 30 anni Sì 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 Ci sono sicuramente Dei nemici lì dentro Questi scendini Me li porto volentieri Vediamo se riesco A raggiungerli Che mi vado a fare Pure il record di kill Adesso Come se non bastasse Allora Sì è qui È tipo qui Sì 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 Potrebbe essere qua sopra Eccolo No ma è un boss No devo andare in safe Non me ne frega niente Il boss lo ignoriamo Andiamocene in safe Va Mamma Ma quanto è lontana No 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 Troppo lontana Troppo lontana per i miei gusti Via Diretti in safe Sentite Sono ancora un po' arruginito Ok Evitate di prendermi in giro Grazie Mi farebbe veramente Molto piacere Tra l'altro Ho sentito anche la notizia C'è un nemico Che rimetteranno la mappa Del vecchio capitolo 1 Quindi io sto tornando a giocare Nel momento in cui rimetteranno La vecchia mappa In cui giocavo io Meglio di così Veramente non poteva andarmi Eccolo Sta scappando Sta scappando Lo dobbiamo inseguire Lo dobbiamo inseguire Vai 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 Dov'è Dov'è andato Eccolo Olè Eliminato Ma stava sparando a qualcun altro Per caso Sì 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 So a chi stava sparando Aspetta che mi rubo questa Che mi può servire Molto bene Eccolo Preso 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 ancora Eh devo andare a pushare Non c'è niente da fare ragazzi Oggi si pusha così Non me ne frega nulla Non me ne frega nulla Vai 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 Mattis Vai Mattis Ok Sono arrivato sul tetto Ho l'altezza Come mi diceva un vecchio saggio Ma dov'è Dov'è finito No vabbè non ci credo L'ho perso Mi sono perso il nemico Dai Nemico Preso L'ho preso in pieno Non ci credo L'ho colpito in pieno proprio Mi stava inseguendo Da non so quanto tempo lui Lì ci sono delle costruzioni O sbaglio Guardale guardale No però forse sono vecchie Comunque Non so come Ma siamo a 7 chi Vabbè io in realtà lo so come E che i nemici sono tutti dei nabbi Ma a noi ci va bene così Che importa in fondo Ah ma io c'ho tra l'altro pure questa Nemico 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 che nuota Aspetta che c'è un nemico che nuota Aspetta che c'è un nemico che nuota Eccolo Ma che cosa sta Ma cosa stanno facendo C'è un altro nemico C'è un altro nemico Fermi Cosa sta accadendo ragazzi Ma Ma c'è un altro qui No ho sentito un lanciarazzi Mi sono spaventato tantissimo No vabbè Ma ci sono troppi nemici intorno a me Fermi tutti Fatemi inseguire quello innanzitutto È andato da questa parte È andato da questa parte Vediamo dov'è Eh no L'ho perso Ma perché oggi mi perdo tutti Eccolo Eccolo Eh questo costruisce almeno Questo costruisce Vediamo se mi ricordo ancora come si fa Vediamo se mi ricordo ancora come si fa Mi ha danneggiato Mi ha danneggiato È scappato via Non mi dire che è scappato via È qui Sì È qui È qui È qui È qui Oh No ora è scappato davvero via Eccolo Guardalo Guardalo come fugge Guardalo come fugge il farabutto Guardalo come fugge quel farabutto Ma perché c'è il ping di un'isola lì? Boh vabbè non lo so Solo che quello è completamente scappato E io sono fuori safe Quindi prima di morire È meglio che io scenda Ok No non ci credo Ho preso danno da caduta Non è vero Questa non ci voleva Ma sta piovendo Ma quando mai ha piovuto su Fortnite? Oh pesciolino grazie Grazie era proprio ciò di cui avevo bisogno Sì avevo bisogno anche di te Sì grazie pesciolini Vi voglio bene Siamo molto attenti perché i nemici saranno agguerriti adesso E qui ci sono delle costruzioni Quindi gli salto ad osso Ok no non c'è nessuno Scherzo Molto attenti adesso eh Bisogna stare È una cassa speciale quella? Attenzione Attenzione Dove sta? Eccolo Farò con la mitraglietta Ok Ole Andato Andato Via Tutti a casa Tutti a casa per favore Non danneggiatemi che non ho voglia Ok sono a 9 kill Sono a 9 kill Wow Non mi sono mai gasato così tanto Lo so che voi direte Ma Matti È una partita qualsiasi È una partita normalissima Beh io sinceramente Non mi divertivo così Da tantissimo tempo E questo è un bra È un bra È un braccio? Che devo fare con questo bra? Oh Oh Bello 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 Sono tipo un bambino Che ha scoperto Fortnite Per la prima volta oggi Wow Dobbiamo assolutamente Tornare nella safe Ma stare attenti ai nemici Che a quanto pare Adesso Sembrano molto più aggueriti Che cos'è sto coso? Recupera scorta Presa E Vabbè sentite Io non so cosa devo farci Mamma mia la tensione sale Mamma mia la tensione sale Siamo rimasti in 12 Mattiz 6 anni dopo La vendetta Mi verrebbe Da dire La vendetta Del Mattiz Allora Abbiamo un po' di pietra Quindi io la utilizzerei Siamo di nuovo Anche nella prossima safe Non è che qua c'è un nemico No? Ok Vabbè vabbè Però a 10 kg Ci dobbiamo arrivare adesso Quindi forse È meglio Non camperare E andare all'attacco Ricordiamoci che tra l'altro Abbiamo questo muro di ghiaccio Devastante Cattivissimo Ultrapotenziato Di nuova generazione Lì è appena Schiattato qualcuno Sono scomparsi i nemici Siamo in 11 Non si sa che fine hanno fatto Sì 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 Eliminato 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 Siamo a 10 kg 10 persone rimaste 10 kg Mamma mia Let's go C'è un nemico che mi sta volando sopra Oh Quelli stanno costruendo E anche troppo per me Ma la vera domanda è Perché li sto pushando Perché non ho niente da fare io Non ho niente da fare Quindi lo faccio cadere Sì L'ho fatto cadere Che dite Pusho? No no io me ne vado in safe Sentite io me ne vado in safe Non me ne frega niente Andiamocene tranquilli in safe Che qua ci sono tanti nemici Ci sono tanti nemici Ci sono nemici davanti a me Aspetta 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 Che stanno Oh 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 Ma quant'aggetto c'è Devi con qua Sparo da lontano Ok Sono arrivato Dov'è? Sta nuotando No raga troppa gente Troppa gente Con calma Con calma Stiamo molto attenti Facciamoci un fortino al volo Facciamoci un fortino al volo Mi stanno facendo cadere Mi stanno facendo cadere Mi stanno facendo cadere Ho preso danno da caduta Ho preso danno da caduta Aiuto Non dovevo prendere danno da caduta Dai Ah Stanno pushando troppo Per i miei gusti Stanno pushando troppo Per i miei gusti Per i miei gusti Me ne vado via Me ne vado via Me ne vado via Mi prendo questo qui Questo qui Me lo prendo io Si 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 La fuga del Matisse La fuga del Matisse Vattene in questo C'è spuglissi Ok Quando ho paura canto Ma intanto mi faccio un medikit E sono ancora in gioco C'erano troppi nemici per me Ok Io me ne andrei subito in safe O perlomeno tenterei la fortuna Non c'è il tempo di pensare ai nemici Aspetta 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 Non dovevo 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 Oh cavolo Oh cavolo Sali 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 No 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 Lancia razzi ovunque Nemici ovunque Nemici ovunque Aiuto Aiuto No 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 Non sono più capace a costruire Non sono più capace a costruire Mamma Mi sto divertendo troppo però Aiuto Più forte di me Più forte di me Più forte di me Più forte di me Abbiamo raggiunto la massima altezza Aiuto Aiuto Oh No Muro di Fem No No Ma non posso No Non posso perdere col danno da caduta No no Questo non doveva succedere Questo non doveva succedere Sessione E Boom Prima kill per me Razzariete Ma che devo Oh Ma che cosa ho fatto Oh No 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 Che Ok 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 Va bene Grazie gioco Ti voglio bene anch'io Quello facciamo che lo lasciamo Che lo vedo Un pochino pericoloso eh E di nuovo al braccio di ghiaccio Lo vedo Lo vedo Lo vedo Ok Ok Questo è un bot Questo è un bot E lo devo inseguire Merita di essere inseguito Merita di essere killato Oh oh E qua sopra E qua sopra Costruiamo E Boom Ma come faccio ad avergli tolto 23 Ma quanto fa schifo sto fucile a pompa Mamma mia Che nascondino Ci si potrebbe fare qui Cioè Guardate questa statua Che è uguale alla skin Seita No si Seita Seita Shukun Vabbè L'altra skin Quella di Di fortnite Che è questa E uno può spaccare qui E mettercisi all'angolo E fare un emote Tipo statua Che in questo momento Non so nemmeno se ce l'ho Sinceramente Però vabbè Insomma Avete capito Potrei fare un nascondiglio Pazzesco Lasciate un like Se volete il nascondino Di Mattiz Se permettete Questa Me la prendo io Grazie mille Dopo 30 anni Vediamo che loot Mi da Ehi Bello Non mi serve Anzi no Questo mi serve Assolutamente Me lo prendo volentieri E basta in realtà Andiamo a pushare qualche nemico Oh 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 Nemico 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 Attenzione Eccolo Eccolo che vuole spararmi Con lanciarazzi Ma non ci riuscirà Perché è appena Stato fatto fuori Oh 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 Non mi scappi Non mi scappi Non mi scappi Ho fatto schifo L'ho lisciato E lo sparo Con questo qui Eliminato Ciao bello Praticamente i nemici Iniziano a diventare forti Solamente nella top 10 E a me sinceramente Questa cosa non dispiace Devo assolutamente Fare una kill col cecchino Però non posso Togliermi il lanciarazzi È troppo utile Mi sa che sacrifico Sì 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 Sacrifico la mitraglietta È un nemico? Ma sembra un nemico Ragazzi Cos'era? Cosa ho colpito? Ok Ho nemici dietro di me Vediamo se riesco A killarli Con lo sniperigno Dovrei prima Salire qua sopra Magari Ok Visuale maggiore Eccolo E no Perché non ho sparato Ora Preso Eliminato Siamo a 5 kill Però se stava sparando qualcuno Vuol dire che potrebbe esserci Un altro nemico E infatti E infatti Oh L'ho preso L'ho preso L'ho preso L'ho preso L'ho preso L'ho preso Lo devo pushare Dai lo devo pushare Per forza Per forza Per forza Per forza Vai 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 Diretti diretti così Diretti così Diretti così Perfetto E boom Eliminato anche lui Con lanciarazzi No vabbè E' troppo divertente Usare questo lanciarazzi Attenzione che siamo rimasti In 10 E non me ne era accorto Siamo messi come prima Ragazzi siamo rimasti in 3 Non chiedetemi come Ma siamo rimasti in 3 Ve lo dico questa volta Sono disposto a far di tutto Pur di vincere Anche a camperare E credo proprio Che sarà quello Che farò Sì 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 Mettiamoci qui all'angolino Magari Quest'albero di mezzo Lo poter Ed eccola lì Che la safe E' la cosa Più lontana Che esista Molto bene La cosa che mi da fastidio E' avere quel 2 di scudo in meno Mamma mia Quanto lo sto odiando Siamo rimasti in 2 Ok Ora devo andare davvero in 6 Devo davvero andare in 6 Lui mi ha Mi ha lanciato un razzo Ok 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 Molto bene Poi la sfida E la sfida avrai E la sfida avrai E la sfida avrai Eh sì Sì che avrai la sfida Amico Di luscia Vi faccio vedere E non ho vinto Perché sono scarso Dai Non ci posso credere Dopotutto Quello che ho fatto Uffa Sapete che vi dico Non la voglio La vittoria reale Io voglio solo Il secondo posto Solo il secondo posto Non la voglio solo Non la voglio solo Non la voglio solo